Il suggestivo parco della biodiversità di Catanzaro ha fatto da cornice allo spettacolo di fine anno della scuola di danza New Lady Mary di Rossella e Francesco Bagnato. Passione e divertimento hanno animato una serata che ha visto gli allievi della scuola esibirsi nelle diverse discipline. Ballo liscio, ballo da sala, danze standard, latinoamericane, balli di gruppo, zumba fitness e per finire la novità dell'anno, il country. Ad arricchire la serata anche alcuni graditi ospiti, i ragazzi del liceo coreotico di Soverato, i ballerini dello studio danza e magnelli di Cosenza e i ragazzi della fabbrica dei sogni Ollus. Il saggio rappresenta la tappa conclusiva di un anno impegnativo, pieno di lavoro, un momento per dimostrare tutte le tecniche imparate nel corso dell'anno, un momento di condivisione, un momento emozionante di crescita e di confronto, affermato con soddisfazione il maestro Francesco Bagnato. Dopo la sfilata di apertura di tutti i partecipanti alla serata, hanno aperto le danze i maestri Bagnato, a seguire spazio ai più giovani, alle coppie da competizione, ai principianti, in una piacevole alternanza di movenze, stili ed esperienze. Dunque una serata sicuramente riuscita, che dall'inizio alla fine ha catturato l'attenzione del numeroso pubblico presente, perché la danza non è un'arte per avere successo, ma un dono per regalare agli altri un'emozione. Musica 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 Grazie a tutti.